Ciao creatura, io sono Ecati Splendenti e benvenuta, ben tornata nel regno di Cosai e SMA. Questa sera un video richiesto di recenti mi abbia aggiunto l'idea e allora eccolo qui, è stato chiesto con un lato di molla e con termo sanzi e di vario tipo, questo è l'inaurio. Penso che già generalmente viene fatto un po' di... per qualche secondo e poi un po' di questo, un po' di quello. Invece io vorrei farli tutti insieme nello stesso audio senza sovrapporre altri audio. Anche se questo inaudible non è proprio inaudible perché hai detto di anche capire cosa io sto dicendo. Sai cosa ci starebbe bene nell'acqua? Un pochino, un pochino, un pochino di brushing, brush, 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 brush. Questo video in attesa del prossimo chat chat in cui ho deciso di parlarvi. Sto pensando se spoilerarti il prossimo tema del nostro chat, ma non sono sicuro. Comunque per le persone più attive al mio canale posso dirti che è stato richiesto, 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 richiesto. da tante persone, quindi poi mi è stato chiesto un'altra di parlare di un'altra persona, ma non la conosco, quindi non posso dire nulla al riguardo. Aggiungto io e brushing perché secondo me poterà che stai cibili. Sto finendo questo diamant painting. che dalla telecamera si intravede molto meglio che dal vivo. quale l'illustrazione rappresenta un'immagine tratta dal film. e va trovare dopo di항e di wale. troppi.... troppi.... troppi... droppi di dal добro. un po' di più E' tutto finito ok diamo pedic 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 e e possiamo trovare insieme a questo video box xbox o 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 po 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 sp 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 tu cosa preferisci o almeno sapere nei commenti scrivono preferisco 1 o preferisco 2 mi piace ascoltare questo genere di video si che faccio questi diamantellini per che sia altamente riascolti e appena ho finito questi diamantellini inizierò a dipingere quella pittura numerica e quel dipinto di Signor Degna Neri inizierò a dipingere la pittura questo sembra un misto tra i baci e qualcosa che uso di un sole ampullino si sa sceglomola si sa sceglomola il pittura il pittura è bello questo è unost overe che si fa nel mio lavoro è una spiegazione che si fa e quindi questo mi fa pensare che volendo l'SMR si può fare con veramente pochissimi basta solo avere se stessi comunque spero che la tua giornata non sia stata troppo 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 pesanti questi giorni sono davvero tanto freddi almeno qui dove sto io è così un po' di bacini a me negli occhi piace quando sento il respiro della persona che sta facendo il video però so se fate la creatura pioggia ogni tanto sto facendo delle piccole, piccole, piccole posse per respirare perché per fare il gusto di voi questo è un po' di bacini 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 ma è un po' di bacini con il pennello per gli illuminanti illuminanti non so se ce l'ho qui disponibile non ce l'ho qui disponibile però voglio provare un po' ho questo trucco piccolino è sempre leggero il prodotto sembra un pennello da pittone li posso perdicare questo video di vista è stato modificato come più preferito perché ho aggiunto delle cose che dei trigger che mi piacciono dei visual trigger un trucco piccolino vorrei fare una live una volta in una live ho visto una live su YouTube dove dovete vedere il nostro dei trigger tipo mediatici e molto soltanto ok ok è stato difficolti io ti trattico un momento molto soltanto anche una scurrere i occhi ci sono potremmo fare una control version inaudible anche se non è proprio un inaudible perché ultimo che tu capisci un po' quello che sto imploderando e qui andiamo con il nostro 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 28 29 29 30 30 spero che questo video ti sia piaciuto io ti do tanti 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 baci tanti 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 ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie